Scatman's World Bella raga, ciao a tutti dal comendone veneziano Edda Mortis Nob Oh, andiamo Forse non ce l'ho neanche mai un video sul canale Solo con Mortis, siete insieme a commentare Eh, dai Ci sarà il video più figo e più Sì, come no Se ti dice che tipo non trova nessuna partita Fai miglior dedicato ufficiale Oh, cazzo Infatti è ricerca senza esito Quindi cazzo devo fare Ok, ok, ok Se te lo dici ancora Fai un server locale così facciamo Ok Il bello della diretta Il bello dei commenti in live Che ci sono anche queste cazzate Olè Comunque Speriamo però di non trovare un server Con tipo 10.000 Infected speciali Vabbè ma così Ma tanto noi siamo di pro gamer Mortis Comunque Comunque No Ci tengo a protestare Con Youtube Per il discorso che per forza dal 7 marzo Ci dobbiamo Tenere lo sfondo Cioè lo sfondo La grafica nuova Che sinceramente A me fa cagare Non so come la pensi te Mortis Ma Un po' a tutti fa cagare Eh Ma Sai qual è il brutto Che Youtube Ogni due mesi Pure di meno Ogni mese Ogni due settimane Cambia Va bene Una volta cambia Il layout del canale Una volta proprio quello di Youtube Poi non si inizia più a capire niente Bene Grande Viva Youtube Youtube domina Esatto Voglio la katana Cioè non ci avatemi La katana No io prendo Il maschio Si neanche non ci avatemi Perché non la trovo mai Ma cazzo Eh Ah guarda Sono Perché non sei pro Eh Dai andiamo Di qui di qui Io seguo Mortis Fai bene Reloading Dai vado di spaccare un po' il culo A sti zombie della merda Cioè ti sfoga Tipo sentero sto gioco Ti sfoga cazzo Porca puttana Si ma sento E la katana non la trovo Eh vaffanculo Eh vaffanculo Prendi queste munizioni Ok Oh merda Come è Oh dio No Cazzo No No Vaffanculo No Dai ragazzi Salvatemi 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 Salvate questo ragazzo Sto dogino veneziano Oh Ma com'è Ma com'è Ma è che hai una fortuna Si ma sono praticamente No Cos'è sta No Vabbè dai Oddio Si ma solo io Solo io non trovo la katana Ma vaffanculo Cioè Cioè devo fare il samurai Vai cazzo Siamo di progamer Asciogono No Scusa Morte Come spostiamo noi l'esercito Ragazzi Non lo sposta nessuno E' meglio che non lo sposta nessuno Mi fate Popa Oddio Oddio Ah Morte Ti piace La mia intro Si si Bella Un antervolante Non ci siamo Dai Morte Io Sto vicino a te Con il suo tranquillo E se trovi una katana dimmelo Alla ricerca Alla ricerca della katana perduta Reloaded La katana nella roccia Si Oh E qui la festa E vai Reloaded ma stai zitto Eh ce ne sono qua eh Eh si Vieni qui vieni qui Cazzo porca troia Ma va Guarda prendi questo qui Dov'è aspetta Qui qui Ok prendi questo qui Che cazzo Eh ma aspetta Cosa devo prendere Ok Ok E poi andiamo Vai Mi drogo Adesso sei più forte Più veloce E puoi fare tutte le reazioni Vai e posso trombare anche di più Bella Zoe esatto È che poi E poi Zoe non è che Non è mare Ma si va bene Va bene tutto Fai il bravo Oh dio Prendi No non c'è Cazzo ma vai fuori di coglio Ecco Cazzo Arrivo 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 Che sto Qui c'è un macete Se ti interessa Dove Katana però Dov'è Aspetta mortes Eccolo qua Vai Bella Adesso mi sento un pro Adesso sono cazzi vostri Oppure se vuoi fare più male C'è anche una padella Eh ma la padella Sai non Non è il mio genere Purtroppo in cucina Ma che cazzo fa Mi va a metà Adosto Questi qui sono i migliori Tossico di merda Vedono che sto giocando E mi inviano messaggi Ma si va bene Ragazzi sto Sono nella merda Sì perché Perché sto Devo mettere Copritemi Che mi devo Curare Eccoci qua Ok ok A posto Dove sei mortes No non lo lancerà ancora Non lo lancerà Ok Siamo alla finita Vieni vieni Questo gioco mi piace un casino Cioè anche graficamente Proprio Me lo godo sinceramente Entra Zoe Entra Zoe Oddio chiudi 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 Cazzo No Ho tirato la bomba No Sono un coglione Mortes Ma adesso esplode Quando si carica Come Ma adesso esplode Non esplode Per fortuna No penso di no Che è Che è un sword Giusto Eh sì Se io intelligente Vado con la Con la Con il macete Cos'è il macete A morte Quest'arma qua Cos'è il macete Eh vado qua Contro la porta Sono proprio intelligente Ma cazzo L'ho ucciso No Esatto LOL Non ci credo Ma dai Mortes Entriamo Noi siamo Siamo coraggiosi Non abbiamo paura di nessuno Vai E vaffanculo E vaffanculo Eh però È più bello Corpo a corpo C'è niente da fare Mortes È più bello Eh ok Cioè ti gasa Corpo a corpo Oh merda Che fortuna Cioè mi gasa troppo Il corpo a corpo Proprio Cioè invece Oh cazzo Oh cazzo È la cosa peggiora Oh cazzo Ah qui c'è Oh merda Oh cavolo Oh cavolo No Ma che cazzo Ma porca Anche nel primo video Che hai fatto C'era un gioco Che ti prende Eh lo so Da lì qui sopra Stanno delle armi Eh ho visto Ma non c'è Non c'è la mia arma C'è No katana No katana Cioè no katana No party Io poi che sono un rusher Clamoroso Su shogun Cioè Ho le katane di livello 20 Sono l'unico al mondo Che ha le katane di livello 20 Ma una sua katana costa più dell'eroe con katana E' vero Ma eccolo qua Dai voglio un'orda Voglio l'orda Eh ti sta bene anche un tank No il tank Il tank Vaffanculo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Lol Ma vaffanculo Tank di merda E' un Tank Bastardo Puttana di merda Zoccola Ma guarda Oddio Non mi avrebbe neanche dovuto prendere Sì ma io l'ho vista in diretta ragazzi C'è stata una roba Una roba E questo che vola Che cazzo è Ma andate a cagare va Oh mamma Oh ce n'è solo qua Porca Eva Che va Non riesco a trovare No ma no Ma Ma vaffanculo Che è successo Ma no sono caduto Devo riformi una Vieni vieni Prima che Ecco Dai che ora arriva l'orda Oh mamma Dove devo andare Ohi dove siete Eh rimaniamo qui che Oddio Oddio L'allarme non può O no Oh no Aia Buona voglio Guarda io mi butto Mi butto in massa Vai vai Parigi Tanananana Tananananana 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 Mara Parara Anf Porsche Sia attento dietro Sia attento In tutti i sensi Andiamo 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 Go 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 Vai Niente mi gaggia sto gioco C'è niente da fare Senti che voce è la zoccola questa Sì Senti che voce è la zoccola E lo so te l'ho detto Che zoccolone ragazzi Te l'ho detto che non è che Eh sì questo è un troione ragazzi Ufficiale Sì qua il video però mi dura Mi dura 200 ore Qua il video Perché Riccardo ha 30 anni Beh lo divido in due parti magari Ma sì perché non è che Che Stiamo ancora alla seconda mappa Se dobbiamo farlo tutto Katana? No il manganello Vaffanculo Speravo io Ma quanto è so Ehi cazzo Cosa è successo? Ti devo aiutare? Ti ho aiutato? Ah no Lois Luis Lois 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 Ma quante sono in totale le mappe scusa? Ehm Mità 5 Siamo alla seconda Sì 5 La mappe da baseball? No fio La mappe da baseball L'ho appena presa Dai entra Zocco Ho posto di trombare con i zombie Vaffanculo Ehm 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 Ehm